Ciao, salutate. Ciao. Con un po' più di entusiasmo. Ciao. Ok, oggi sono qua con chi sei tu? Marco con la K. 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 E tu chi sei? Questa persona è nuova. Mi chiamo Mario. Mi chiamo Mario, cioè proprio con quella voce, ok. E dove siamo Mario? Siamo a Miondo. E cosa siamo venuti a fare Marco? Comunque siamo a Uldira, sono a Miondo. E questo te lo spieghiamo dopo. E cosa siamo venuti a fare? Cosa siamo venuti a fare Bora? Siamo venuti a... E guarda la macchina, non guardare me. Siamo venuti a mangiare come al solito. E questo è solo quello che dobbiamo fare. Siamo venuti a fare un video sul cibo di strada. E quindi noi adesso andremo in giro per Miondo perché Miondo è molto famoso per il suo street food. E compreremo un po' di tutto, uno di qualcosa. Siete che facciamo? Dall'adietro guardate che carini. Succede anche in Corea. E quindi vi sapremo dire se sono buoni, se vale la pena comprarli oppure no. Ricordatevi, noi siamo a Miondo, ma per venire a Miondo si può venire anche a Uldira, che è quella stazione, la vedete? C'è scritto Un Giro Il Gà. Un Giro Il Gà, linea 2. Che è la più comoda, visto e considerato che tutti noi viviamo sulla linea 2. Vero ragazzi? Anche tu Marco, esattamente. Bene, allora per andare a Miondo andiamo di là. Siamo a Miondo. Non c'è gente a Miondo. Non c'è gente. Mai, soprattutto mai nei giorni di festa, mai. Sì, però qui non so dove. Qua cosa c'è? Qua c'è solo le tornei d'opertutto che avete visto anche nella nostra rubrica del mercoledì. Le mangiamo? Marco, Mario, tu che ne dici? Io non le preferisco. Tu hai chiamato ancora Marco Mario. Eh, io ho dei problemi. Dovete sapere che poi non è un problema a distinguere i nostri nomi. Ma è da tipo due anni che chiama me Mario e me Mario. No, perché siete così uguali. Tipo gemelli. E allora io vi distingo, vero? Però sono uguali? Ma sembra russo Mario, hai giocchi azzurri, alti 1,90 m. Io sono tipo basso, 1,2 m. Sono con i pezzi neri. Comunque, il problema non è quello. Marco? Niente patate, andiamo. Ci sono già state nella rubrica del mercoledì, come di chi vuoi sapere. Potete anche mangiare la frutta se volete a Myeongdong. Fragole. 3.000 won per una bicchiere. Buone. E qua cosa c'è? Qua c'abbiamo dei mando e del john. E di qua abbiamo gli hot dog. Ed è pure halal. Quindi se c'è qualcuno di voi che ha bisogno di mangiare cibo halal, qua lo può trovare. E qua potete vedere il talcomo. Anche questo è comparso nella rubrica del mercoledì. Guarda, ci sono i cuori. Guarda, c'è anche un coso. Cosa è un coso? La signora ce lo vuole vendere, perciò non. Anche a Myeongdong si trovano le calda roste. Basta se le persone fai dire per me. Andiamo avanti e troviamo il polipo. Un altro snack molto, molto, molto... Sì, proprio quello volevo dire. No, volevo dire, è molto... Inflazionato. Ma che parolone che uso? Inflazionato? Perché però non è inflazionato da noi. Sì, quindi sì. E qua si fermeremo, perché Mario ha detto di sì. E ci sono le salsicce con i tock dentro. E lo vogliamo. Marco adesso comprerà una di queste cose. Costa 3.000 won, sono tipo 2,40 euro. Prendi la quella di sopra, guardatelo. Questo è il nostro. Come sembra a Deli, come direbbe Marco. Non la piccante e il ketchup, per favore. Grazie. Questo ketchup lo scopriremo solo mangiando. Allora, spiegamola. Qui c'è una salsiccia. Una salsiccia. Poi questo è un tock fritto. Tock fritto. In pastella. In pastella. Salsiccia, tock, salsiccia. Bene, siamo venuti in disparte per mangiare la nostra cosa con le salsicce. E adesso Mario vi farà vedere come si mangia. Però devi farlo con la Korean reaction. No, no. Questa non è una Korean reaction. Adesso lo proverò anche io. Come la Korean reaction? Ma Marco ci farà vedere come è la Korean reaction dopo. Marco la fa benissimo perché è nato in tanto simbro grande e sottile. Adesso proviamo il tock fritto Mario il tock fritto. Dai. Ah. Come è? Come è? Come è? Come è? Come è? Come è? E' stata una spiegazione molto lunga e profonda. Li potete trovare in qualsiasi forma, colore e dimensione. E soprattutto oggi che sono là, di solito, va bene, era ieri. Comunque di solito in questi giorni si mangia la tock fritto. Che è praticamente la zuppa di tock. Che è la zuppa di gnocchi di riso. Marco è disgustato. In questo momento. C'è un altro frutto che arriva dopo. Andiamo al prossimo. Come vedete abbiamo mangiato tutto. Non ve l'abbiamo fatto vedere perché è pasta. Cosa abbiamo di qua? Qua abbiamo... Ci sono i seo. Ci sono i seo. Cosa sono i seo Marco? Sono gli shrimp. Buoni gli shrimp. E ci sono anche le crocchette di polo. Ragazzi, sono praticamente dei gamberi fritti. Vuol dire che tu prendi il gambero e lo friggi. Wow! Meglio di così? E poi ci sono delle cose che sembrano crocchette di polo. Che io voglio. E cos'è questa cosa? Boro, che cosa è questa cosa? Sembra una cosa di pesce. Sai tipo i... Come si chiamano Marco? Aiutami. Yodeng. Per fare il venditore a Miondong bisogna parlare almeno 5 lingue ragazzi. Cioè è un lavoro che non possono fare più. Questa prima ha parlato in giapponese e in cinese già. E coreano. Proviamo a parlare l'italiano Marco. Secondo me lo sa. E chi è se questo è il pollo? Avevi ragione pure. Un manteo? Un manteo? Un manteo? 5 mila o stica? Queste cose costano 5 mila won. Circa? Circa 3,80 euro. E un manteo. Che però per essere in Corea è un bel prezzo. E' un po' pissano. Noi passiamo oltre. Un po' pissano. Qua abbiamo i cosi di... Guarda questi. Guardate questi. Questi che li fa con i cosi... Sì che è arte ragazzi. Questa è arte. Fai cose con i fili. Tipo questo prende quella cosa là che non ho ancora ben capito cosa sia. Questo parla anche inglese. Questo parla inglese. Ha detto, tu lo sai questo? E poi lui la tira, la tira, la tira e fa tipo miliardi di fili. Non so se riuscite a vedere là. E poi li attorciglia attorno... Tipo bacco da seta. Ma che... Solo che non esce la farfalla. No? È una bellissima metafora. Quella alla fine se sarà giù. Però anche questi sono qui sa, quindi passeremo molto. Abbiamo i mando ragazzi. Cosa sono i mando Mario? Ma la dici spiegare cosa sono i mando. Oli oli di pieni di carne o verdure. Buoni! Sono i tortellini bolognesi. Ma coreani. Ma coreani. E li vedete? Che... Guarda, si scatta anche l'inglese. È un set con due mando. La verdura e la salsa ti costa 3.000 won. Non è male. Sono sempre 2,40 euro. Non è cambiato il cambio negli ultimi 10 minuti. Forse. Forse. E qui abbiamo un succo di malografico. Voglio questa. Io la voglio. Ma Marco, compralo. Queste sono le farfalle ricoperte di cioccolate. Le farfalle. Le farfalle. Perché prima, dal baco di prima, le uccidono direttamente. Sono le fragole. Sono le fragole. Sono le fragole ricoperte di toc e... Cioccolato. Basta, cioccolato le impondo. Secondo me non è cioccolato, per me è patto. Sempre è patto. È patto. Ma chicata. Io lo voglio. Comprale. Chi vuoi te? 2.500 won. Uno. Cosa? Quanto? 2.500 won. 2.500 won. Eh? La vuoi ancora, Marco? Sì, la voglio ancora. Comprala. Ecco, guarda, le hanno detto la bustina col coniglio dentro la fragola. Quanto è carino. Guardate che carino. Mangiamoci il coniglio. È mio. Mangiate il coniglio. Questa gioccolata è bocci. Quanto può essere bello? Come faccio a mangiare una cosa così? Non lo so. Spostiamosi da qua davanti che li stiamo impedendo. Oh, e qua fanno gli hot talk. Anche questi li avete visti nella rubrica del mercoledì. Qua sono fritti. Eh, ragazzi. Già che sono fritti. Se avete già visto la rubrica del mercoledì, lo guardate sto video perché... E' un po' gommoso. Ok, lo voglio assaggiare anch'io. Dai! Un pezzettino, Marco è egoista. Piccolo, piccolo. E' fuggito. E' fuggito. E' fuggito. Grazie a tutti.